A Villa Grande Strisaili il panettone ha il profumo della birra. Oltre alla farina di frumento, lo zucchero, le uova e il burro, in questo storico panificio alle porte del paese Oliastrino, la birra, prodotta a chilometri zero, ha conquistato il suo posto d'onore come lievito naturale. Sì, sì, sarà anche la curiosità, però stanno comprando più che altro quello quest'anno, quindi vuol dire che sta piacendo. A trascinare l'innovazione è l'originalità dei prodotti. Tutti locali da Villa Grande Strisaili fino al birrificio di Tertenia. Il principe dei dolci di Natale rinasce così in Sardegna, del tutto rinnovato, con le idee dei giovani. Conosciamo tutti le proprietà lievitanti della birra, dunque questo prodotto rimane molto poroso e più morbido rispetto al solito. Inoltre le birre sono birre particolari, la moreta, la fumia della senora, che hanno dei sentori speziati, dei toni di affumicato e di particolare, e dunque il panettore ha un gusto molto molto delicato.